ehi la ciurma io sono mazzatest e ben ritrovati in questo nuovo episodio di mind test ita sono state delle belle vacanze qua in questa casetta finalmente credo che potremo tornare alla nostra solita abitazione dopo queste bellissime vacanze al polo nord vacanze artiche quindi andrei a dormire e poi ricominciamo allegramente prendiamo l'accappatoio si l'accappatoio e torniamo in là eccoci qui ragazzi siamo tornati siamo tornati siamo tornati allora ci sono alcune cose diverse che vi devo spiegare punto primo ho modificato la mod farming come già prestabilito per il fatto delle glass bottle che restavano con il mais ora come ora ho cambiato il crafting quindi come potrete vedere il crafting dell'etanolo ora non ha più una bottiglia e 5 unità di grano ma sono 6 unità di grano e in più la bottiglia non viene più restituita nell'output cioè una volta bruciato l'etanolo sparisce e quindi si possono mettere più unità e non c'è la questione di toglierlo il problema che ci eravamo posti ormai tre episodi fa altra questione sono queste lampade come potete vedere ho tolto tutte le luci da per terra e ho messo queste luci qua l'unica questione è che beh adesso io toglierei questa solo loro a parte che costano abbastanza e non è che illuminino particolarmente anche per il fatto che queste hanno come luminosità quello della torcia meno uno mi pare di ricordare e quindi come potete vedere non è un granché luminoso la mese lamp invece ha una luminosità discreta cioè praticamente come una torcia ma forse in realtà anche questa se la mettersi sotto non lo so comunque non è che siano granché luminosi questi blocchi quello che mi ha sempre dato abbastanza fastidio in mine test che rispetto a minecraft i blocchi sono molto poco luminosi a parte le giordax lamp che sono luminose come una torcia lamp che abbiamo utilizzato nella scorsa stagione e che possiamo trovare rapidamente queste qua tutto il resto è meno luminoso di una torcia ciò vuol dire che devi per forza utilizzare una torcia il che è molto antiestetico come si discuteva tempo fa e queste lampade qua invece sono molto costose nel senso che hanno bisogno di quattro unità di ferro per ogni lampada e per dare che cosa poi la stessa luminosità di una torcia quindi se per caso voi aveste qualche consiglio su qualche mod da utilizzare per l'illuminazione io sarei molto contento altrimenti potrei provare a influire sulla mod questa qua in questione è la home decor se non sbaglio per aumentare la luminosità perché non è possibile cioè che io debba fare tutte queste torte tutte queste che tra l'altro queste qua sono le glow light small e se cerchiamo glow light non è che neanche siano chissà quanto economiche glow light cube questa qua perché ha bisogno di white dye e il glow glass che ha bisogno di due torce ma la questione non è neanche tanto questa del cioè nel senso vetro ne abbiamo torce ne abbiamo e bianco per fortuna ne abbiamo un pochettino non tantissimo però ne abbiamo qua stanno spredando un po il fatto è che comunque andrebbero messe andrebbero spammate nel senso che andrebbero messe davvero molto vicine e in più il fatto è che la crescendo la casa alta quattro blocchi è erognosissima la questione perché disperde già praticamente il 90 per cento della luminosità in in quei quattro blocchi ecco proviamo ad andare in un posto buio ma no forse in realtà lo fa vedere anche no volevo andare giù sotto in cantina in realtà perché qua c'è il sole no cantina ecco togliamo un attimo le torce qua giusto per avere un'idea ok qua adesso è buio praticamente completo no vediamo con f5 dovrebbe darci da la luminosità qua no forse no draw time 10 11 12 no non lo da la luminosità credo eh perché non cambia se vedo in qua cambio gli fps range draw time ma no 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 io io neanche pointing at qua packet main loop no 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 non ci dice un caso però giusto per farci un'idea qua dopo quattro blocchi vuol dire che siamo 4 blocchi vuol dire 1 2 3 4 che siamo qua dove c'è già praticamente metà della luce che ha fatto guardate la luce intensa arriva fino là qua è media e il blocco appena dopo è già buio è già buio e in più questo se abbiamo la luce appena sopra perché se già ci spostiamo un attimo qua vedete già che si sta facendo il cono d'ombra qua in questa zona qua è un attimo più in là ancora più nel buio nel senso se qua siamo 3 blocchi lontani dalla torcia cioè dal cubo è già buissimo è una rogna unica è una rogna unica abbiamo un sacco di torcia e quindi io sarei dell'idea di usare questi cubi qua ma di dargli un attimo più di potenza perché è davvero troppo poco luminoso cioè nel senso è un lampadario che la pena in line messo e non vedi un kaiser perché ok capisco il discorso che questo cubo teoricamente sarebbe un blocco nella realtà no cioè un metro nella realtà in real life e quindi diceva beh c'è una luce quattro metri più in alto di te sì però il fatto che guarda quasi tutte le cose che utilizziamo sono alte due metri o un metro non essendoci gli spazi intermedi ha fatto un rumore no credo fosse il televisore di sotto e non essendoci degli spazi intermedio dovrei davvero spammare un sacco di quelle torce oppure metterle per terra però il problema è che qua non occupano un blocco intero sono più piccole di un blocco quindi credo che sarebbero no quella non volevo toglierla oddio volevo togliere questa scusate e e quindi sarebbe come avere dei buchi per terra e infatti cioè per carità non interromperebbe il cammino ma è brutto dover salire a scendere tutto il tempo e sentire del vetro sotto i piedi a meno di non fare tutto di vetro per cui cammini tutto sul vetro e all'illuminazione sotto ma facevo che non ha alcun senso avere più sempre forse potrei effettivamente provare a usare una cosa intermedia cioè mettere un tipo una fans ecco se si mettesse una roba tipo una fans che poi teoricamente dovrei anche avere no questa è la scala che idiota che sono allora se mettessi una fans qua eccettacassi la la luce non sarebbe niente male farebbe più luce ma questo vorrebbe dire che mi limiterebbe comunque all'altezza di 3 e a quel punto mi faceva un soffitto più basso no non sono proprio per niente contento da questa cosa e poi guardate già qua sono due blocchi di distanza e dovrei spammare tipo non lo so vorrei che avessero molta più luce ma perché anche questo se lo metto non è che cambia tantissimo questo qua viene fatto con un blocco di mese il mese come si fatto con adesso devo alternare tutte le mille milarie di ricette no viene fatto con tre cristalli di mese e un pezzo di vetro ma tre cristalli di mese per ognuno di queste cose qua è costosissimo cioè è costoso tanto quanto gli auto breaker che in termini di mese no ma non ci sto proprio per nulla mi scoccia mi scoccia da morire questa illuminazione pessima pessima e contate contenuto le torce alle pareti perché se si tolto le torce alle pareti era un oscurità oscena è vero che non ci sono finestre in questa casa è vero che non ci sono finestre ci sono solo quattro porte però secondo me è assurdo è assurdo mi sembra una questione assurda a queste liane qua fuori mi fanno pensare a un discorso che avevo fatto tempo fa quando ero andato in giro avevamo trovato quelle specie di liane della plant life e questo mi viene in mente mi fa venire in mente il fatto che non ho più creato quelle cesoie che non ricordo neanche più come si chiamassero agli stessi candelabri questi qua non fanno tanta luce quanto dovrebbero cioè nonostante abbiano due torce non è che fa luce doppia di una torcia no non so se sono scissor o shears ma forse sono shears come su minecraft no ma dovrebbe essere plant life prima complante vediamo se mi dice qualcosa no cos'è questo tra l'altro cycle è una specie di falcetto allora dobbiamo cercare la mano adesso sto forbi si cesoie sono la fin fine papero l'asse da stiro non ce ne frega un case però questo orologio qua da parete non è male grandfather clock come si fa un analog clock questo è un hardwood slab di 8 su 16 con un simple integrated circuit con due black die ma non è male potrebbero mettercela effettivamente una un orologio del nonno dicela o un distributore di coca cola che tra l'altro funziona davvero se uno utilizza i gold coin che ho visto esserci da qualche parte si dovremmo arredare un po' di più questa casa ma volevo prima fare le forbici quindi doverle nell'inventario quando andremo a esplorare se per caso troviamo quelle specie di liane per poterlo utilizzare ma è peggio che andranno eccole qua a con l'acca con l'acca con l'acca sono wooden planks perché le ho convertite tutte due stick e due ferro allora il ferro non ce l'abbiamo ma andiamo a prenderlo subito qui no si due ferro alle fence le mettiamo qua mettiamole qua per ora e un di legno allora quindi era così 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 e così no a forse voleva quello di oak voleva quello di oak ma porca paletta ma è una barba unica se non altro memore della questione dell'altra volta dovrei avere un po ecco un po di wood di oak wood qua quindi allora andiamo così andiamo 1 e 2 1 e 2 ok adesso abbiamo le nostre fantastiche shears queste le metto qua e queste le tengo nel primo zaino che dite si ci sta e abbiamo dell'oltenolo qua lo screwdriver un'altra diamond pickaxe che mi sono fatto per quando vado a scavare e cosa che volevo fare ecco un'altra cosa che volevo fare l'extractor perché come il buon barra cattivo real bad angel aveva intenzione di fare ha fatto nel senso che ora per ottenere i die normalmente ogni cosa qua ne da solo uno cioè se rompo un fiore se scrafto un fiore mi da un colorante bianco mentre invece se utilizzo l'extractor me ne da due black white dye allora andiamo un attimo su white dye vedete se andiamo con un craft grid con la crafting guide ci da appunto solo un'unità mentre vabbè mixing non ha alcun senso extracting cosa ce ne da? ah no 4 ce ne da quello di prima solo che a questo punto dobbiamo creare l'extractor quindi andiamo sull'extractor che è un elemento che adesso ci risulterà necessario abbiamo bisogno di 8 cast iron ingot che sono quelli cotti semplicemente il brass ingot dobbiamo vedere se per caso ne abbiamo ancora uno per fortuna sì anche se in realtà e qua ne abbiamo 8 giusti ottima cosa 8 ottima e le furnace allora andiamo a cuocerli e poi avremo bisogno probabilmente anche di una no qua non ne abbiamo bisogno di un altro per fortuna però abbiamo bisogno di 4 treat up e un electric motor che non è niente male come complessità i 4 treat up non sono granché complessi abbiamo bisogno di 4 pneumatic tube segment che andiamo a vedere se per caso abbiamo già speriamo di sì no ne abbiamo uno un pneumatic tube segment ma abbiamo della plastica non abbiamo neanche della plastica eh sì si fanno con 6 di plastica abbiamo 5 pezzi di plastica però abbiamo dell'unprocessed paraffin che dovrebbe darci da plastica se cotta no sì ottimo così riusciamo almeno a fare anche quello giusto per essere sicuri quelli hanno bisogno del hawkwood no qualsiasi allora prendiamo quelle che ci mancano un due tre quattro cinque no cos'è successo 8 no 8 6 me ne servono oddio santa paletta 1 2 3 4 5 6 ecco qua poi bisogno dell'hawkwood che avevamo messo qua ma ce ne servono quattro perché sono quattro no no rockwood ne vanno bene tutti scusate sto facendo un fail quattro sei e qua com'è che è così 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 ok così però ne ho abbastanza sia il pelo 1 2 3 e 1 4 ottimo adesso andiamo a fare il cubicciolo qua il machine casing e ci resta un low voltage cable che spero di avere sì alleluia e qua abbiamo bisogno di carbon steel che dobbiamo andare a cartare un copper ingot ma allora innanzitutto 8 di ferro dobbiamo andare a cuocere 1 2 3 qua 5 6 7 8 più altri sei che dovrebbero diventare carbon battellapesca seroli e qua ne ho solo 5 però quindi un altro coal dust no ma ce l'ho nell'inventario del coal lo metto qua per ricordarmi e no quello è un cast iron non è un carbon battellapesca seroli però bisogno del copper qua ne ho uno che quello che mi servirà ma ne avrò bisogno di 3 e 3 6 12 se non vado il razio con orazio e allora andiamo a cuocere tutta questa bella storia allora da no 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 allora io andrei prima di questo poi intanto vado nel grinder qua per darmi il coal dust e me ne da due naturalmente me ne ero dimenticato questo è l'alloy furnace quindi ci mettiamo questi ci mettiamo questi qua ci mettiamo questi e andiamo a dormire intanto visto che si è fatta notte visto che si è fatta una certa andiamo a dormire allora no questo è finito non ancora questo è finito sì ho bisogno come li cuocqua di nuovo no ma ho bisogno che mi cuocqua questi questo posto questo posto mi mancano appunto quei due truppi tappi allora che sono 1 2 3 4 4 4 1 2 1 2 che sono 1 2 3 4 e sono 1 2 3 e 4 poi sono così 1 2 3 4 6 e 1 motorino ok electric motor c'è il low voltage cable c'è i 4 3 tap ci sono e abbiamo fatto un low voltage extractor scusate ma qua c'è il mio cellulare che spamma robaccia e allora medium voltage transform abbiamo bisogno di altri due copper coil porca paletta che quindi ci richiedono 8 ferro 12 allora 8 ferro 12 copper dust faccio prima lasciarne 7 qua e abbiamo bisogno di 5 carbon voleva si 5 carbon quindi devo prendere altro ferro qua 1 2 3 4 5 ok e poi grindare dell'altro carbone allora andiamo a grindare dell'altro carbone in numero di 2 poi andiamo a cuocere i 5 qua già che ci siamo mettiamo del etanolo a bruciare due bottiglie dovrebbero bastarci come potete vedere adesso non da nessun tipo di output quindi è un'ottima cosa soprattutto in vista di una farm futura allora adesso facciamo così e cos'ha qua ha finito e quindi mettiamo questi 12 intanto dobbiamo vedere se per caso abbiamo il cavo quello nero ma non ce l'abbiamo quindi abbiamo bisogno di ahhh non abbiamo più della co questi due ci servono comunque non abbiamo più del rubber no no barb rubber fever che sono 4 roulette con 2 cold dust 4 roulette c'è abbiamo 4 roulette no abbiamo solo un roulette crippio dobbiamo andare a raccogliere dell'altro roulette e beh intanto finiamo quello che possiamo fare allora questo l'ha fatto questo l'ha fatto quindi facciamo 1 2 3 4 smazzalo moltiplicalo dividilo così 1 2 1 2 1 2 1 2 ecco qua cosa ci serviva no niente perché questo possiamo farlo il problema è l'altro questo ce l'abbiamo allora trasponiamo un attimo la questione qua abbiamo bisogno a dei quattro a questi due ce li abbiamo ottimo stainless steel che vanno con un chromium e 3 carbon steel ce l'abbiamo no eh no un chromium e 3 carbon steel quindi vuol dire 3 di ferro e altri 2 carboni green down quindi 3 di ferro a cuocere 2 carboni green dati qua tra l'altro sta producendo più di quanto ce ne stia qua vero no no per ora no ma togliamo l'altro etanolo perché rischiamo solo di ingolfare tutto perché non sembra ma produce un sacco quello produce meno di quanto consumiamo però consumiamo di più di meno di più di meno di più di meno il meno è meglio il meno ok non ha alcun senso non abbiamo preso neanche ok ma forse no non ce l'abbiamo nell'inventario utilità poi qua l'ho visto prima si allora andiamo un attimo a prendere del raw latex no perché l'ho messo la mi serviva nella hot bar la c'è il nostro cariximiximo alberelliximo della gomma tra l'altro è già passato un fracco di tempo ma io volevo fare mille cose invece abbiamo fatto un extractor beh è medium voltage l'extractor però ah tra l'altro ecco cosa di cui mi sono accorto adesso che non c'è high voltage quindi quando vorremmo potremmo upgradare tutto il sistema non potremmo upgradare lui e la questione non è poi chissà quanto bella eh anzi non è per niente bella io direi per il fatto che eh potremmo automatizzare la produzione di gomma sì con il eh ma quelli sono dei node breaker non sono degli autonomous activator questi con la con il carbone qua ne ho del carbone vediamo quanto me ne danno ne ho bisogno di 6 ma non me ne darà mai 6 anche perchè ho bisogno di 2 di carbone se no non ricordo male quindi andiamo a mettere altre 2 di carbone qua andrò poi a scavare un po' in miniera chromium eh vediamo me ne dai almeno 6 sì sì ottimo allora questi li togliamo e mettiamo invece questi e questo che mi diano gli stainless steel e vado piuttosto a farmi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ottimo quindi questo ce l'abbiamo ci mancano semplicemente i quattro lingottowser che adesso abbiamo prodotto quindi allora questo qua copy to craft guide qua qual è la cosa quella give me ah ma questo qua è quando sei in creative ma me lo darà davvero no ah sì che me li sta dando oh santi i numi ma non dovrebbe darmele così a caso vabbè eeeh li droppiamo o spariranno tra un po' eeeh e niente quindi questo è quanto questo la me ne ha messo un'altra perché l'ha preso di là e non l'ha preso da là però tanto adesso dobbiamo andare togliere via questo treat up mettere questo qua e fare uno spazio al nostro circuito per mettere un volt extractor a cui dovremmo mettere una batteria tra l'altro cosa qui non avevo pensato quindi 2 copper 1 tin allora dove è tin 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 rin tin tin ok 1 tin 2 copper e poi del legno che abbiamo per fortuna in abbondanza allora tu cuoci il copper io intanto crafto del legno questi dovrebbero bastarci allora copper tin legno e dovrebbe essere tutto ciò che è necessario ok poi spero che non voglia lock ok no infatti non vuole lock gli va bene quello e mettiamo l'upgrade slot qui così ora dovremmo avere un extractor funzionante tra l'altro l'extractor serve anche per la gomma no forse i raw latex raw latex ah con il rubber tree grinding che viene ah grindando un rubber tree potrebbe essere una farm interessante ma neanche troppo nel senso che come no usage ma si come avevi detto prima questo cuocendolo dalla colla e e boh ma credo che per ora servirà più che altro per i die se vogliamo fare queste lampade qua almeno da un fiore ce ne da 4 non ce ne da uno che è molto più conveniente ecco questo ha riempito? si quasi quindi credo che non sia un problema ma il tempo paxa molto velocissimamente xd e quindi io anche per questa volta vi saluto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto noi ci vediamo nel prossimo episodio e vi auguro una buonissima giornata ciao a tutti ciao ciao